26 maggio perché noi crediamo davvero che voi siete una categoria che è molto numerosa e deve avere assolutamente in consiglio comunale un rappresentante e abbiamo scelto di candidarci nella lista civica di Pasquale Dirella, sindaco. Dobbiamo stare lì seduti per i prossimi cinque anni. Sulla scheda elettorale troverete il simbolo blu dove mettere la X e scrivere il cognome lo russo e sotto Marvulli perché insieme dobbiamo andare lì. Da te mi sposte tanti anni non ha ascoltato mai, ha cercato avanti. Hanno sempre fatto domande però lui non ha mai ascoltato e allora hanno deciso di andare avanti. Lui vuole che aprino gli occhi per curare questo istituto perché sono cinque anni che l'ENS hanno fatto domande però non l'hanno ancora disposto. Loro protestano perché quell'istituto è stato costruito cento anni fa a favore dei sordi e adesso i sordi sono stati diciamo cacciati e sono andati le persone dell'Est e l'istituto il dottor Verghero anche e il consultorio medico e i sordi non vengono cacciati. Dicono che i sordi non vogliono essere cacciati, vogliono essere aiutati, vogliono dell'aiuto. De Caro non ha fatto niente, non ha aiutato nonostante loro hanno fatto tante domande. Faremo di tutto perché Michele venga eletto al nostro fianco e nella lista di dirella sindaco.